Ciao! Allora? Ma speriamo bene! No no, finisce! Si è? Sembra? No, no, devo avere! Sì, metti prima la trattata, metti prima la sinistra, perfetto con l'intesa... Le donne rimatte di qua! Sì, si può 300! E lui 400! C'è un porto alla sera! Ah, vero? Se ne manca due! Con questo tre! In the sky! Con questo! In questo tre! Si è un porto alla ventosa Monthly che tratta in regionale No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.